Santa Lucia, la festa più bella che ci sia. Il giorno più corto, qualcuno dice, in realtà dovrebbe essere il 21 dicembre, ma questa è la mia vena di precisetti che viene fuori. Un giorno speciale, quindi un augurio speciale, il primo augurio di buono nomastico in videoconferenza, attraverso un video. Tanti auguri di buono nomastico a tutte le Lucie e che la loro Santa, che porta la luce ad ognuno di noi, la porti anche in questo mondo che ne ha tanto bisogno. Auguri!